Torna l'iniziativa della consegna dei pacchi alimentari da parte dell'Udc di Pescara, siamo in piena emergenza con il signore Pignoli e la decisione di tornare a quanto si faceva qualche settimana fa è una decisione quasi obbligata. Sì, ce la chiede la gente, noi quando ce lo chiede il popolo cegniamo in piazza. Questo è un partito moderato, democratico, che crede nei valori della famiglia e ovviamente come non mai in questo momento storico dobbiamo dare delle risposte importanti. La prossima settimana saremo presenti in alcuni supermercati, il Carrefour, il Tigre in via Malagrida, il Conan in via di Copiano, dove i cittadini di Pescara, quelli di buon cuore, ne abbiamo trovati tanti nel primo lockdown, ovviamente daranno quello che potranno. Noi ovviamente prepareremo i pacchi e le persone che sono interessate a ricevere questi aiuti dovranno fare lo stesso modus operandi dell'altra volta, quindi attivarsi telefonicamente allo 085 42 83 464, dove ci sarà il segretario del gruppo che sta lavorando in smart working e che prenderà le richieste. Le richieste dovranno essere consegnate ovviamente il modello ISE che è lo stato patrimoniale della famiglia. Per i commercianti, i barristi e quelli che avevano un tenore di vita abbastanza importante basta il modello ISE corrente che fotografa la situazione attuale, quindi potranno beneficiare se vorranno anche loro. Massimo anonimato, le domande verranno ovviamente immediatamente cestinate, senza nessun tipo di divulgazione dei dati e la cosa più importante e bella è che i nostri volontari poi andranno a casa di queste persone, andranno a consegnarle di persona onde evitare assembramenti. Sessore, ancora una volta l'Udc a fianco delle persone più bisognose. È una situazione abbastanza difficile perché con questa seconda ondata sono aumentati i nuovi poveri, sono aumentati, ci troviamo in una situazione veramente drammatica e l'Udc come sempre è vicino sempre alle famiglie più bisognose. Quindi un appello soprattutto a chi ha bisogno di non vergognarsi, noi lo facciamo veramente con il cuore perché qua noi siamo qui per questo, siamo qui a stare a disposizione di tutta la gente che ne ha bisogno. Quindi noi ci siamo, questo è un appello che volevo fare e faremo di tutto per aiutarli. Consigliere Fiorilli, un'altra iniziativa che è sicuramente encomiabile da parte dell'Udc. Scendere in piazza, in questo periodo si scende in piazza per protestare, qualche volta per distruggere, qualche volta per rappresentare le proprie esigenze, legittimamente, per carità. Ecco, in questo momento la politica scende in piazza per costruire qualcosa di buono e mi sembra un modo migliore per essere presenti vicino alle persone.